Si è spento nella notte a causa di una malattia l'ex parlamentare radicale Piora Pagnà. Aveva 73 anni, abruzzese, di Rosetto degli Abruzzi. Era stato eletto deputato con il movimento di Pannella nell'aprile 1992 e aveva concluso il mandato anticipatamente nel 1994 per lo scioglimento delle Camere. La sua attività politica è stata sempre caratterizzata da battaglie civili e sociali in difesa dei più deboli, degli indinquilini senza casa o per la deviazione del traffico dei mezzi pesanti della statale 16 adriatica. Quante lotte, quante battaglie. Fondatore dei movimenti civici in mia casa e città per rivere, si fece anche promotore del comitato per i referendum regionali contro i costi della politica. Da solo, con un camioncino, girava tutto l'abruzzo col megafono per diffondere l'iniziativa. L'intera comunità di Rosetto piange Piora Pagnà. Di lui il ricordo impresso nella mente di chiunque abbia avuto modo di incontrarlo almeno una volta. Persona schetta, animata dalla passione per la politica, sempre a fianco di chi avesse bisogno. Lo ricordiamo con la sua sciarpa rossa, divenuto simbolo di lotta in difesa dei deboli e della legalità. Uomo di cuore, passionale, a volte comico e spiritoso, pur di spiegare le sue ragioni e farle comprendere agli altri. Una vita vissuta da combattente, senza mai tirarsi indietro, sempre in prima linea, senza mai risparmiarsi. Sì, ciao Pio, sicuramente non starai con le mani in mano lassù, ti darai da fare anche lì. E chissà che riconoscimenti che non hai ottenuto nella vita terrena potrai ottenerli in paradiso.